Bentornati su Whatsapp Economy. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante, cioè degli investimenti immobiliari. Sappiamo, gli italiani amano il mattone, amano investire, amano acquistare case. La seconda casa, la terza casa, la casa al mare, la casa in montagna, si riempiono di case. Eppure il mercato immobiliare non è più come quello degli anni 70-80 e bisogna stare sempre attenti su quello che si fa. Ma perché vi voglio consigliare queste cose? Beh, semplicemente perché ho studiato. Incredibile per uno youtuber, eh? E anche perché seguo degli investimenti immobiliari, tra cui anche gli importi di 2 milioni di euro e oltre. O faccio dei corsi di formazione sugli investimenti immobiliari e anche altri corsi. Ad esempio, il 22 agosto in partenza ho un corso sulla macroeconomia per studenti universitari o appassionati che vogliono approfondire questi argomenti. Insomma, ne so qualcosina di questo argomento e voglio darvi qualche consiglio in più che può esservi utile. Partiamo dal primo consiglio, cioè non fare un'analisi del territorio, uno studio di mercato. Cosa che si fa molto spesso quando si vuole aprire un'impresa, ma in realtà è molto utile farla anche in questo tipo di investimenti immobiliari. In quanto molto spesso si cade nel tranello del territory bias. Che cos'è questo territory bias? Beh, è un inganno mentale che facciamo per cui pensiamo che la zona in cui noi attualmente viviamo sia la migliore per poter fare un investimento immobiliare. È una cosa che si applica molto in anche altri ambiti degli investimenti. E cioè ci illudiamo che dove siamo sia la zona perfetta oppure non valutiamo altre zone che potrebbero essere migliori. Invece facendo degli studi di mercato e degli analisi di territorio si può capire meglio quale sia la zona migliore per effettuare un investimento immobiliare. In quanto questo tipo di investimenti sono estremamente collegati alla tipologia di mercato in cui vogliamo effettuare questa operazione. In quanto il mercato delle real estate è estremamente segmentato, estremamente settorializzato. Per cui un investimento nella provincia di Bergamo può essere totalmente differente rispetto a una provincia della Toscana. E quindi andare a individuare il settore o comunque l'area geografica più precisa è fondamentale. Questa è una cosa che anche questa racconto all'interno dei miei corsi di formazione. E cioè andare a vedere quali sono le peculiarità di determinati territori. Qual è il mercato che più è voluto dalle persone? Qual è la casa tipo più scambiata o l'immobile più scambiato dalle persone in un determinato mercato? Qual è il prezzo di affitto? Qual è il prezzo di vendita in un mercato? Che di nuovo possono essere molto differenti da territorio a territorio. Anche territori vicini o attaccati possono essere molto differenti. Tutte queste metriche, tutte queste analisi di mercato possono contribuire ad effettuare un investimento immobiliare di successo o un vero e proprio fallimento. Il secondo errore che vedo molto spesso fare è che non si ha un piano. Ci si affida troppo spesso all'intuito. Si pensa che quel tipo di investimento sia un buon affare semplicemente perché si ha questa sensazione, questo fiuto che possa essere realmente vero. E non si vanno a prendere tutta una serie di considerazioni che magari potrebbero darci maggiori dettagli sul capire se effettivamente è un buon investimento oppure no. Ad esempio, molto spesso non si fanno delle risk analysis. Un esempio tra tutti. Cosa succede al mio mutuo nel caso in cui dovesse aprire un mutuo per fare questo investimento immobiliare? Nel caso in cui i tassi di interesse si alzano? Nel caso in cui si abbassano? Cosa succede se ad esempio il locale rimane sfitto per tre mesi? Cosa fare oppure se l'inquilino all'interno dell'immobile non paga più l'affitto ma rimane lì dentro? Insomma, fare tutti questi scenari non solo nel momento in cui l'investimento immobiliare prende il suo corso e quindi o lo si vende o lo si affitta, ma anche eventualmente in tutta la fase di costruzione dell'immobile che è estremamente delicata. Anche lì capire quali sono le caratteristiche immobiliari da perseguire e sapere esattamente cosa fare nel momento in cui si arriva a noi un evento o una notizia nuova è estremamente importante e ci fa rimanere con i nervi saldi e capire dove andare a parare. Molto importante. Lo sto vedendo anche in alcuni investimenti che sto seguendo che vanno un po' a naso, nonostante i miei consigli di non farlo, e si vedono tutte le difficoltà di portare a termine il progetto e soprattutto in questi ambiti in cui l'investimento immobiliare, parliamo di centinaia di migliaia di euro molto spesso, se non milioni, hanno un impatto poi sulla nostra finanza personale, sulla nostra stabilità economica molto importante. Quindi è meglio non lasciare nulla al caso. Un terzo errore che vedo spesso fare è quello di non prendere in considerazione l'imposizione fiscale dell'investimento. Ad esempio, quello che vedo spesso fare è, ah ma sì, tanto io acquisto questo immobile per 100.000 euro, mi esce una rata di 400 euro al mese, l'affitto a 600 euro al mese e quindi ci rientro dentro. Beh, le cose in realtà sono molto più complicate di così, perché bisogna considerare l'IRPEF o comunque l'imposta sostitutiva su quel guadagno di 600 euro che potrebbe ridursi ovviamente al netto delle tasse e diventare meno sostenibile l'investimento. Bisogna considerare ancora le tasse sull'immobile, come ad esempio l'IMU, nel caso in cui non sia la prima casa, casistica molto frequente se parliamo di investimenti immobiliari. Ricordo che l'investimento immobiliare può essere differente da un acquisto di un immobile per uso personale, anche di questo ne parlo in alcuni corsi. Comunque, ulteriori spese che possono impattare i redditi derivanti da quell'immobile e quindi produrre o minori entrate rispetto a quelle previste, oppure ancora addirittura essere in una situazione insostenibile da un puntista economico, perché il mutuo potrebbe diventare superiore nei costi rispetto ai ricavi netti di quell'investimento immobiliare. Oltretutto, molto spesso non si valuta un'analisi di costo-opportunità, cioè, ad esempio, se io da questo investimento immobiliare che ricevo un reddito netto di 600 euro, un mutuo di 400 euro e ho un affitto di 200 euro al mese, cosa avrei potuto fare con gli stessi soldi, con altre attività finanziarie? Questa è una domanda molto importante che davvero pochissime volte le persone si pongono quando vanno a valutare un investimento immobiliare, ed è estremamente importante, perché, ad esempio, ci potrebbe essere una soluzione alternativa rispetto a un investimento immobiliare che potrebbe rendere di più, e anzi, molto spesso rende di più, perché ci sono tantissime casistiche in cui gli investimenti immobiliari in realtà hanno dei rendimenti negativi o leggermente superiori. Quindi, molto importante anche questo aspetto dell'imposizione fiscale, di valutare costi e benefici, costi di manutenzione sugli immobili, soprattutto se si acquistano immobili vecchi, molto importanti, insomma, prendere in considerazione tutte queste analisi ed effettuare delle corrette analisi di bilancio. Il quarto consiglio che voglio darvi è chiedersi per chi si sta facendo l'investimento immobiliare. Questo è un altro punto molto importante, perché definisce anche l'approccio verso l'investimento immobiliare. Ad esempio, sto acquistando un immobile da affittare per studenti? Beh, ovviamente lo dovrei cercare su una zona vicina a un polo universitario, di una metratura tale che mi permette una suddivisione delle stanze, che ci siano delle stanze vivibili, e visto che sono stato uno studente universitario ve lo consiglio di fare delle stanze vivibili, e che possono essere, ovviamente anche qui, superiori rispetto ai costi che ho ottenuto. Un altro esempio ancora, voglio acquistare una casa da vendere a una famiglia con due figli, richiede un certo tipo di selezione dell'immobile, che è completamente diverso rispetto a quello di un investimento di un immobile adatto a degli studenti universitari. Quindi è molto importante ed è fondamentale, rientra nei procedimenti, nella stesura di un piano, di un business plan, se vogliamo, per quanto riguarda questo investimento immobiliare, capire per chi si sta facendo, per chi si sta facendo l'investimento immobiliare. Per me, per altri, se sono per altri, chi è il prototipo tipo a cui voglio vendere quell'immobile, o a cui voglio affittare quell'immobile. Questi ragionamenti ci permettono di stilare una serie di punti di attenzione, attenzione o di punti critici, che dobbiamo rispettare nella selezione dell'immobile e conseguentemente nella ricerca del venditore, dell'acquirente o dell'affittuario più adatto a noi. Anche questi aspetti vengono molto sottovalutati, per cui spesso si prende un immobile perché magari è leggermente sotto prezzo rispetto ai prezzi di mercato, o perché si è trovata l'occasione, perché ci si innamora, anche questo è un elemento che può influire molto anche negativamente sull'investimento immobiliare, questa adorazione verso un certo tipo di immobile, caratteristiche immobiliari, eccetera, eccetera. Questi elementi possono dirottare un corretto investimento immobiliare rispetto a delle analisi analitiche, critiche e, il più possibile, oggettive. Atteggiamenti che fa un investitore immobiliare corretto e consapevole di quello che sta facendo. Un ultimo consiglio barra errore che spesso si fa in questi argomenti, poi di nuovo qui nei commenti potete farmi domande, dubbi, alcune esperienze personali, magari farò altri video in seguito, riguarda quello della scelta dei giusti professionisti. Un investimento immobiliare, soprattutto se non siamo nel settore del real estate, è un investimento molto particolare, che ha a che fare con tantissime funzioni, tantissime specializzazioni molto particolari. Ad esempio, io ho visto dei preventivi di costruzione di un immobile da più di 2 milioni di euro, ci capisci veramente poco, perché ha a che fare con opere edili, opere di ingegneria, opere di sicurezza, catasti, autorizzazioni comunali, temi finanziari di cui io mi occupo in ambito anche immobiliare, per cui scelta del mutuo, eccetera, eccetera. Ed è fondamentale a quel punto trovarsi un professionista adatto. Io mi sono trovato con diverse situazioni immobiliari, di investimenti immobiliari, per cui c'era all'affiancamento dell'investitore una serie di professionisti non troppo svegli, e che hanno determinato un andamento dell'investimento immobiliare o a rilento o addirittura quasi disastroso, se non completamente disastroso. Quindi è molto importante affiancarsi con dei professionisti in gamba e soprattutto di fiducia, di cui vi potete fidare, con cui potete fare dei ragionamenti abbastanza onesti e aperti e che vadano nel vostro interesse alla risoluzione di tutta una serie di problematiche che sicuramente, all'interno di un investimento immobiliare, otterreste. Quindi è molto importante scegliere anche i professionisti giusti. E nel caso, e anche questa è un'altra cosa che ho vissuto sulla mia pelle, nel caso in cui pensavate che avevate i giusti professionisti, ma nel corso dell'investimento in realtà capite che non sono stati o non erano quelli giusti, o comunque hanno perso colpi, pensavate che fosse una professionista migliore, qualsiasi motivo, anche qui non avere paura di cambiarli. So che è un processo abbastanza delicato perché ci deve essere una staffetta su un professionista, un altro professionista che magari non è concorde, potrebbero ritardare i lavori, però anche qui, in base alle situazioni, potrebbe essere necessario e non avere paura di cambiare professionista se si reputa quello che avete attualmente, non in grado di proseguire in maniera efficace i lavori o comunque tutto l'iter riguardo il vostro investimento immobiliare. Ovviamente senza specificare che più è lungo e più è grande questo investimento immobiliare, più è complicata tutte queste serie di analisi che vi ho raccontato. Spero di avervi dato qualche consiglio utile. Di nuovo, giù nei commenti potete dirmi un po' la vostra, qualche esperienza traumatica, anche di maestranze edili, anche lì ce ne sarebbe da raccontare. Insomma, ditemi che nel caso, se esce qualche spunto di riflessione, esce un altro video. Vi ricordo i corsi attualmente in programma per WhatsApp Economy, che potete iscrivervi anche oggi. Il 22 agosto parte quello sulle macroeconomie, ne partirà in futuro sull'immobiliare, tutte le date in descrizione. Alla prossima. Dai!